Un campo. Due mete. Un frisbee. Due squadre da sette giocatori. Nessun arbitro. Di che sport si tratta? Lo avete indovinato? Presto potremo vederlo alle Olimpiadi. Si tratta dell'Ultimate Frisbee. Questi siamo noi. E questi sono i B-Free, la squadra di Ultimate di Torino. L'obiettivo è, senza ampere dubbio, tornare in Serie A. Nobbi, zero paura di sbagliare. Giochiamo il nostro frisbee. Facciamo bene quello che siamo bravi a fare. L'anno scorso è stato un po' un anno, è andato tutto liscio, abbiamo vinto sempre tutto. E poi c'è stato il patatrack mio del rottore del crociato, proprio alle finali. Quando abbiamo perso il disco, probabilmente che ha cambiato la partita, diciamo che di sicuro mi ha toccato, me lo ricordo. E si sente molto la pressione di provare a fare quello che l'anno scorso non sia riuscito. Il problema è che, raga, la squadra non c'è. Quando siamo davanti alla meta da soli, riusciamo a non fare meta. Se volete buttare la cosa su di me, io me la prendo. Io sto ritrattando la mia voglia di andare in Serie A. La pagana è un pazzo, meraviglioso. Penso di essere uno tra i pochi che sa come prenderlo, sa come accalmarlo. No, è finita! 1, 2, 3, METRE! Cioè, noi siamo restati. Ti spiazzerà molto battervi dopo. Ha, ha.